Ovviamente per aggiungere così lo stretch su Counter Strike 2 e giocare con i 4 terzi con una risoluzione più allungata vai su impostazioni video, risoluzione ovviamente la risoluzione la sceglierà così nel gioco rapporto d'aspetto 4 terzi modalità di visualizzazione schermo intero e la frequenza di aggiornamento metti la tua ovviamente poi Counter Strike 2 cambierà del tutto quindi se in questo caso si vede Counter Strike con i bordi neri tipo questi bordi qua come puoi vedere una cosa del genere tipo così e per risolvere questo problema usiamo il pannello di controllo di Nvidia per modificare così la sua risoluzione nel gioco regola dimensioni e posizione desktop, file schermo intero risoluzione per esempio se su Counter Strike esce il 1440x1080 come puoi vedere c'è una risoluzione del 1440x1080 e con i bordi neri si può adattare grazie al pannello di controllo di Nvidia se imposti questa opzione schermo intero, metti così la risoluzione che ti dice nel gioco e poi fai applica e una volta fatto risolverai il tuo problema dei bordi neri e potrai giocare a Counter Strike senza problemi quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao 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 ciao